Ma io non capisco perché voi volete vedere che l'idea sia cambiata. Noi diciamo sempre quello che abbiamo sempre detto, per noi le cose non sono assolutamente cambiate, ci invitano a dire la nostra, noi veniamo senza nessuna paura. Noi siamo pronti a governare e quindi governando dobbiamo confrontarci con tutti e non dobbiamo certo avere paura di mettersi a dei tavoli con degli interlocutori. Senta Grillo diceva liberiamo Rimini però, diceva liberiamo Rimini la CIA, ma oggi qualcosa è cambiato. Andiamo sul tavolo.